Il tamburello nella musica popolare pugliese ha un ruolo importantissimo, se non un ruolo principale, in quanto la pizzica e la tarantella si basano proprio sulla ritmica del tamburello. I ritmi che utilizziamo più frequentemente con i Terraross sono tre in realtà, che sono la pizzica, la tamburiata e la tarantella. La pizzica la facciamo di solito così. La tarantella la facciamo o rallentando la pizzica in questo modo, oppure così. E poi facciamo anche delle tamburriate. Il tamburello è fondamentale nella nostra formazione musicale semplicemente perché ha una gamma di frequenze complete, prende tutto e quindi ti avvolge completamente col suo ritmo, con i suoi suoni e sei completamente catturato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.